Buongiorno a tutti! Buongiorno amici ascoltatori di Cristal Radio Milano 96.2, buongiorno Fabio. Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando, a tutte le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori. Di nuovo qui con voi, 7.05 di oggi, venerdì 5 gennaio. Siamo già al 5 gennaio. Domani è la Befana. Poi domani è la Befana. E basta. Non si contano più. Poi 8-9 gennaio e poi dopo sembra che non finisci più gennaio. Di solito funziona così il gennaio, vero? Sembrerebbe. Poi arriva anche il freddo, quindi sarà ancora più complicato farsi passare addosso. Oggi giornata uggiosa. Anzi, appena andato 10 ragazzi di Battisti, non ho andato una giornata uggiosa. Però è giornata più che uggiosa. Più che uggiosa oggi. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5-5. Per scriversi, farci un buongiorno, dire ragazzi qua piove più che di là e tante cose. Mandateci dei video così poi premiamo chi prende più acqua. No, ovviamente. Così, no, non è così. Ma è proprio acqua, non è temporale. Quindi è proprio acquazzone di quelli che piove ovunque. Piove ovunque oggi. Oggi piove ovunque. Capiremo anche se nelle prossime ore ci saranno problemi. Danno anche domani pioggia e domenica traballante per adesso le previsioni. Poi vediamo, magari cambiano. Speriamo, però insomma. Era un po' che non pioveva. Beh, sì. Da Natale, no, dal 31. Dai, dagli due giorni di danni. Eh, infatti da quelli là, perché poi ha piovigginato un pochino a Capodanno, ma poca roba. Ah, bene, dai. Iniziamo la giornata con un po' di carica, perché qua ce l'è bisogno oggi. C'è anche uscite, vedete brutto tempo, siete meteoropatici, lo so come va a finire. Quindi andiamo un po' con un po' di rock quello duro degli ACDC con Highway to Hell. Cristian Radio, good morning Milano. Yeah, 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 yeah. Prendete la tazzina di caffè e spaccatela, così, lanciatela. Perché? Lanciate, così, un po' da ribellione rock di questa mattina. Sbattete la portiera della macchina. Non troppo forte, che dopo se non si chiude più bene. La mia, sì. La mia catapezzi, se lo sbatto. Siate rock con parsimonia. Senza esagerare. Senza esagerare. Responsabilmente. Responsabilmente. Cominciamo con la rassegna stampa, ma anzi, prima della rassegna stampa, come tutti i giorni. L'almanacco. 5 gennaio, cosa è successo? 5 gennaio, 92 anni fa, nasceva Umberto Eco. Umberto Eco che vi invito a recuperare un video su YouTube in cui fa vedere la sua casa, che è letteralmente davanti a Piazza Castello. ha una biblioteca infinita e se andate ancora a quel civico lì, vedrete, le finestre della biblioteca si riconoscono tranquillamente e sui citofoni ci sono più Eco, quindi immagino... Ebbè, ovvio, c'è l'Eco. Ok? Te l'ho servita questo, non posso farci niente, però è una bella... Comunque è una bella cosa che... Ma dai, bella, 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 bella. C'è standi video di casa di gente da vedere su YouTube, tipo quella di... Cassano? Ah, anche se c'era quella lì, c'era quello lì, sì, sì. No, quella veramente interessante. Renzo Arbore, ah, stranissima, piena di aggeggini, gadget, robe al neon, che lui era accaduto per il mondo, sembra il backstage del Roxy Bar, un po', in certi momenti. Poi, 73 anni fa, Christian De Sica, oggi lo compravano di Christian De Sica, uno dei... 73? 73? Beh, portati bene, dai. Sì, negli ultimi anni, chiaramente. Capito, mi piace il tuo 73 anni. Ah, infatti, la mia generazione non ci arriva neanche. Eh, adesso, ansia climatica. No, 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 però non è quello, cioè... È che siete stirati. No, poi siamo stirati un po', no, per le cose nel mondo, più che per l'ansia, più che per l'ansia, più che per la cosiddetta, eco-ansia. Eh, beh, Christian De Sica, 73 anni fa, che è praticamente con tre film al cinema, due su Prime, due su Netflix. No, se ci fate caso, sotto Natale, Christian De Sica è ovunque. È ovunque. Eh, adesso ha iniziato una serie, non mi ricordo su che piattaforma, vabbè, comunque, è così. E nulla, ragazzi, questo era il monaco del giorno, nient'altro da sottolineare. Tornata tranquilla, dai. Da sottolineare. Sì, sì, per oggi, sì. Fare la mia signora stampa oggi non sarà semplice, parleranno tutti di pipì, parleranno tutti, credo, quindi... Perché di pipì? Ah, dove hai sentito, Meloni, che si è alzato durante la conferenza stampa perché doveva andare a fare pipì? Però posso dire, dopo tre ore di conferenza stampa, non lo dici così. Ecco, bravissima. Non lo dici così. Scusate, mi assento un secondo. Fedi così, vai. Però, è lungi da me difendere. Ce la fa. Ho detto così, ha detto. Non so se si può fare. Eh, dai, c'è, capito. Ok, però adesso... Ieri sono entrato su Twitter, ho visto i parallelismi con Draghi che traduce in inglese la domanda. Ok, va bene. Però non sono tutti... Draghi. Non hanno tutti quell'altezza, quella postura istituzionale, ecco, di Draghi. Indipendentemente da come la si pensa. Il problema è quello, però, cioè... Eh, lo so. Il problema è quello. Che io e te possiamo non averla e stiamo qua. Eh, infatti. Ma chi sta seduto lì dovrebbe averla, cioè... E ti ripeto, sono da quello con te, cioè, a prescindere da come la pensi, cioè, è un po' che non vedi certe altezze istituzionali, a prescindere se poi Draghi ti piaceva o no, ma ti ripeto, anzi, non mi piaceva neanche come dire, cioè... Però nel senso... Non lo so. Poi, vabbè, c'è chi dice, meno apparenze, più sostanza, magari, invece. Quindi, magari, questa non è così... Capirei. Come dici tu, però, insomma. Capiamo, invece, come va il traffico, dai. Ozuna, insieme a David Guetta, con Vocation, un po' di disco... No, come quella... Radio Bogotà, così, insomma. Non so come si dice. E non l'hai ascoltato la canzone, per quello. Tu, appena è partita, hai visto il titolo e hai tolto le cuffie. No, ho visto. Posso dire, è vero. Ecco, infatti, l'ho visto, l'ho visto. È vero. Ma perché stavo anche leggendo, perché... Giusto, giusto. Mi sta appassionando così tanto la vicenda dei tornelli. Oggi il giorno li chiama antifurbetti. Benissimo. I tornelli antifurbetti in metro non piacciono alla sinistra. L'assessore a Censi controbatte, avanti così. Dal consigliere Mazzelli, stasala, lo scrittore Bazzi e altre le priorità. Replica l'esponente della giunta. Siate realisti, combattere l'evasione tariffaria è un dovere nei confronti dei tanti che pagano. E questo, aggiungo io, non lo mette in dubbio nessuno. No, infatti. Non lo mette in dubbio nessuno. E infatti, nulla. Si parla ancora dei tornelli. Arianna Censi pubblica un post, una card, dicendo che le persone in difficoltà economica sono giustamente sostenute dal Comune con un piano di welfare del TPL da oltre 50 milioni. Combattere l'evasione tariffaria è una necessità e un dovere nei confronti della stragrande maggioranza delle persone che pagano. Questo è ciò che dice Arianna Censi sui tornelli di antisalto. E Valerio Pedroni, che è stato ai nostri microfoni qualche mese fa, sempre consigliere comunale del PD, dice ottimo, brava, ben detto Arianna Censi, taggandola. Questo è quello che succede oggi. A sinistra dice no. Dipende se il PD lo definisci di sinistra o no. Effettivamente, c'è un po' di polemica con questa malvillata, polemica anche nel titolo. Io non ho ancora letto la posizione, ma perché io non ho letto sicuramente la brada di Carlo Monguzzi. Ho visto se ha detto qualcosa. Sì, immagino proprio di sì. E quindi adesso bisogna, adesso è un titolo chiaramente, però capiremo, cioè capiremo. Saranno fatti, questi 172 tornelli verranno messi giù entro la fine dell'anno e quindi... Allora, ti dico, su Instagram Monguzzi non ha pubblicato nulla. È più tipo da Facebook. Ok, è più tipo da Facebook, ok. Adesso poi andiamo a cercarcelo su Facebook. No, comunque appunto, non è che adesso potete dire quello che volete, ma intanto sono stati ordinati, quindi non è che non si può fare niente con... Cioè ci sono questi tornelli, basta. Neanche su Facebook. Neanche su Facebook. Tra parentesi, vi do questa notizia. Secondo me o qualcuno gestisce i social di Carlo Monguzzi o Monguzzi ha imparato a collegare il profilo Instagram a quello Facebook, perché sono identici i post. No, è sempre. Stavo controllando che adesso sono identici. È sul pezzo, appunto, di vista social. Ok, ok, perfetto, perfetto. Meno male, nel senso, così noi seguiamo uno l'altro e facciamo prima. Ieri, cosa è successo in Viale Toscana? Sicuramente l'avete sentito. Una cosa assurda. Una cosa assurda, una roba da... Un squid game di noi altri. Sì, sì, sì. Tre ragazzi, sembrerebbe... No, sembrerebbe, li hanno visti. Un mercato. Hanno montato un cavo d'acciaio teso ad altezza Duomo sulla carreggiata di Viale Toscana. Sulla carreggiata? Sì, è un miracolo, è una coincidenza fortuita, che non si è successo niente. C'è chi l'ha visti dalla finestra, come Nicola Ricciardelli, che è un 26enne, che ha subito chiamato il 112. Dice, su Davo Fred, un'auto è passata e ha preso in pieno il cavo, ma senza grosse conseguenze. Per non so quale miracolo, un motociclista che stava arrivando ha svoltato a destra, evitando la trappola che l'avrebbe ghigliottinato. Adesso è un cavo d'acciaio teso, lo sappiamo benissimo. Che danni può fare? Sì, senza senso, anche le spiegazioni date mi annoiavano, una cosa del genere. Stuck, 30 seconds to Mars, Jared Leto, quel giro lì. Quello lì. Sono due fratelli, se non mi ricordo male. Sono tutti fratelli. Ah, tutti. Io sono fratello di tutto il mondo. Ah, ok. Sono fratellanza. Sì, 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 sì. Niente, adesso noi andiamo ancora un attimo in pausa, perché ci sono i consigli per gli acquisti, c'è ancora un po' di musica, poi torniamo qui con tante notizie, velocissimo. Dico velocissimo, per chiudere il discorso di quello che stavamo dicendo prima, ci annoiavamo e volevamo fare solo un gioco. Si è difeso così, 24 anni, anzi scusate, con precedenti, fermato dai carabinieri per aver teso appunto il cavo d'acciaio. Ci annoiavamo, vedete, va bene. Forse potevi stare zitto era meglio. Va bene, ne facevamo prima. Va bene, andiamo con la musica. Non tua, cioè lui doveva stare zitto. Chiaro, no, che no. Chiaro. Elodie, affari spenti. Ed Sheeran, South of Border, con Camilla Cabello, Cardi B, e come al solito, 24 persone a seguire. Classicone. Come annunciato ieri da Beppe Sala, il sindaco, sulle sue storie di Instagram, la struttura, partono i lavori per il BEIC. Cos'è il BEIC? La Biblioteca Europea di Informazione e Cultura. BEIC. Insomma, partiti i lavori, i lavori termineranno, dice, entro la fine del suo mandato. Quindi stiamo parlando di entro metà 2027. Ricordiamo che si va un pelino più lunghi perché ci sono le Olimpiadi durante questo mandato. Sarà una maxistruttura culturale in porta a Vittoria, il cui primo progetto, non lo sapevo, leggo sul giorno Milano, risale all'amministrazione Albertini, che è in carica dal 1997 al 2006. Quindi ce n'è voluto di tempo. Dopo tanti stop e rinvii dovuti alla mancanza di fondi, come immaginavo, la biblioteca appunto diventerà realtà, grazie ai soldi del PNRR. 101 milioni di euro. 101? 101 milioni di euro. Ho visto tanti zeri, quindi ho fatto un po' fatica, però mai visti. Non hanno scritto 101? 101.574, quindi 101.000. Non sarà una biblioteca tradizionale, dice Vepesala, avrà certamente una grande funzione bibliotecaria, ma sarà chiaramente un polo multifunzionale. Come viene sempre detto, spazi espositivi, co-working, e anche una parte dedicata ai bambini. Fa sapere il sindaco. Poi dovremo capire quante cose devono buttare giù, che non vanno buttate giù. No, no, c'è già lo spazio. Cosa manca? Quando c'è un nuovo progetto, cosa manca? Il rendering, no? No, il rendering sicuramente c'è, e il fatto che il sindaco sottolinea che la nuova biblioteca sarà circondata da un parco di 30.000 metri quadri. Ormai io non capisco, ma quando lo dicono, non si rendono conto, cioè fanno un po' ridere? Senza che veramente basta. È così, è così. Io mi ricordo, dalla cosa che era, il conservatorio, in Arrogoreto, quello aveva un rendering veramente che era pauroso. Bello stadio, lo stadio famosissimo. Lo stadio quando lo volevano fare sul rio dell'Amazzoni, qua a San Siro, c'era qualcosa. C'erano più alberi che, neanche al bosco in città c'erano tutti quegli alberi. Tra l'altro, vicenda a San Siro, per il momento, con il nuovo anno non abbiamo ancora dato niente. No, è chiuso col botto perché c'è stato ancora sul discorso referendo un bocciato per l'ennesima volta dalla consulta comunale, ma per il momento adesso vediamo. Si capirà. intanto al 331-78-535-555, Alberto ci scrive buongiorno agli amici del mattino e con oggi sono finite le vacanze. Eh sì. Aspetta Alberto, finiscono domenica, dai. Finisco domenica. Sì, vabbè, oggi finiscono i giorni di ferie che prendi al lavoro, non so come dire. domani è la Befana, ma capita di sabato, quindi chi non lavora sabato e domenica e aggiunge e comunque buon weekend e un saluto speciale agli inossidabili, Fabio e Lorenzo. Sempre chi? Sempre chi raccontarvi il Tius Cross, leggere i giornali, insomma, finché è morto e non ci separano. Non guardate in questo momento la telecamera. Inossidabile mi ha ricordato la battuta di Giovan Giacomo l'irimpressibile Albertazza. Ecco, irreprensibile. Ecco. Non sapevo facessi anche teatro. Valentine Maleskin 741 Minuto e ancora qui su Crystal Radio ancora qui con Good Morning Milano ricordiamo 331-78-535-555 il numero di Whatsapp a cui potete scriverci. E continuiamo con la rassegna stampa perché il comune si costituisce parte civile per chiedere il risarcimento dei danni per l'imbrattamento della statua Love meglio conosciuta come il dito di Piazza Affari di Cattelan che era stato imbrattato da ultima generazione circa un annetto fa il 15 gennaio scorso appunto gli ecoattivisti avevano lanciato la vernice sulla scultura Love in Piazza Affari immagino che il risarcimento sia dovuto al ciò che è servito per ripulire spese di pulizia magari anche al danno di immagini non lo so non lo so però appunto il diciamo che il comune prende una posizione netta hai visto invece cosa ha fatto Gucci che ha lasciato si posso non so però però è bella come dire per sensibilizzare eccetera siamo vicini alla causa quindi quasi dire avete fatto bene non so quasi dire così è immagine è immagine pubblicità dove arriva il marketing finché io avrò un microfono e sarò in diretta non potrò dire no scherzo no non lo so bisogna bisogna sempre contestualizzare azioni del genere adesso se effettivamente siano interessati o meno alla causa lo spero e spero che le intenzioni siano buone certo ecco quando un marchio così grande prende una decisione così netta in controtendenza l'idea del è tutto marketing è chiaro che viene in testa il greenwashing qua la fa la padrona parlando di cose serie invece purtroppo Milano è in vetta tra le province della Lombardia chiaramente in questa triste classifica che sostanzialmente sono le persone decedute senza fissa dimora nell'ultimo anno sono state 67 le persone morte senza fissa dimora in Lombardia 28 a Milano e su Varese 5 Monza 4 eccetera eccetera su questa triste notizia però dobbiamo segnalare che il comune di Milano ha ritenuto idoneo il mercato coperto comunale del giambellino per offrire riparo notturno alle persone senza fissa dimora che vuol dire che il mercato del giambellino la mattina va sui bancarelle classiche eccetera la sera diventerà rifugio temporaneo per i senza tetto contro il freddo visto che ci avviciniamo ai prossimi giorni in cui torneranno molto rigide le temperature il piano freddo sicuramente sta funzionando purtroppo sappiamo che è molto difficile che i senza tetto chiedano aiuto sono veramente tanti a Milano Milano mette a disposizione le cose è nell'interesse di tutti difendere i senza fissa dimora purtroppo in alcuni casi è difficile convincere molto molto difficile sono situazioni che una città come Milano aumentano esponenzialmente sia per il numero di persone che passano da questa città sia per sappiamo anche le difficoltà che molti hanno nel vivere questa città che insomma non è semplice per tutti 15 piani Sfera e Basta è uscito da poco il suo disco sentiamo anche le ultime canzoni uscite appunto da Sfera molto milanese come racconta delle casellale sì sappiamo che è di queste parti è di queste parti è di questa banda di queste bande purtroppo anche Keta Keta rapper trepper anzi milanese di origine tunisina che nelle scorse ore è stato denunciato dalla polizia con l'accuso di porto abusivo di arma e oltare a giù a pubblico ufficiale dopo aver preso parte alla guerriglia forse l'unica guerriglia che si è registrata importante di Capodanno qui vicino in zona San Siro sì in un'altra zona lì la cosa incredibile come sempre è che tutto è stato testimoniato da dieci minuti di diretta di soggettiva in soggettiva da parte del trapper stesso sì e questa cosa è veramente assurda no è assurda perché veramente non capisco allora c'è da capire una cosa allora o lo fanno apposta perché ormai c'è così il gangster rap però non è la roba di Tupac e quelli lì era un po' diversa West Coast East Coast degli anni 90 negli Stati Uniti oppure si è ormai completamente perso il senso della logica del guarda che però te pizzica non ce lo so come dire infatti tra parentesi in una zona abbastanza attenzionata in un movimento quello dei trapper milanesi un po' troppo attenzionato viene a dire perché sono tutti criminali quindi insomma anche lì forse esageriamo un po' è vero è che poi anche qui avranno fermato un po' di persone qual è però l'unica che finisce i giornali Keta quello famoso anche lì poi quello famoso chiede a un tuo parente se conosce Keta no mio parente no però capisci che anche questo è un tema interessante cioè chi è famoso oggi Keta che è famoso tra i giovani non so Viola lo conoscevi Keta no ecco ad esempio vent'anni ventuno scusa ho fatto il compleanno non cioè non sa chi è Keta perché non è di San Siro capisci anche io conoscevo Keta Keta ti dico la verità ho capito è Miss Keta anche per me infatti quindi capisci anche lì però poi da vedere su Instagram su TikTok così migliaia migliaia di follower perché non credo che riva milioni quindi anche lì insomma cosa vuol dire quindi oggi essere famosi questo è un altro discorso però chiaramente se hai qualsiasi tipo di numero ma anche io che ho i 250 non so quanti follower da poraccio se vado in giro a sparare a salve e aggredire la polizia col telefono davanti devo aspettarmi che qualcuno venga a chiedere il conto giustamente e ho 200 follower ecco anche Keta 23.000 223.000 223.000 sì però non è che c'è 200 in 3.000 non è che al giorno d'oggi dici c'è gente che con milioni si è lanciata la frutta al Carrefour ecco capisci quello no ma infatti capisci che Carlo Monguzzi ha 3.000 quasi di follower cioè alla fine tutti meritati vabbè comunque poi ti volevo raccontare uno spaccato allontanandoci un po' di vita vera e di coincidenze assurde dopo il discorso di ieri sulla scuola e sulla sulla nostalgia di quegli anni lo diciamo dopo lo diciamo dopo però rimanete collegati con noi perché dopo la pausa vi raccontiamo le situazioni come era è una cosa molto veloce molto tranquilla è il problema fare hype a dopo a dopo ok fra pochissimo torniamo qui con voi con le storie di Lorenzo Maseri sempre qua su Cristian Radio in diretta fino alle 9 Good Morning Milano Cristal History niente male è Simple Red con Fairground bentornati su Cristian Radio bentornati a Good Morning Milano 8 e 08 in questo istante di venerdì 5 gennaio fuori sta piovendo ancora non mi confermate? adesso no lo chiedo a chi ci ascolta ah 33178 53555 fatecelo sapere che se piove non usciamo siamo tutti e due ricci quindi se se prendiamo umidità ai capelli è la fine noi quindi sai che io non so ho provato questa cosa che effettivamente noi ricci abbiamo un po' più paura dell'acqua rispetto agli altri ci dà un fastidio ma si se tiene i capelli ma no anche se non ci tieni da fastidio non lo so non ci ho mai fatto caso sinceramente a me da fastidio mettere i cappelli però li metto sempre infatti c'è quel bel cappellino con cui arrivi la mattina che se mi unpirla niente male è vero no per i capelli da fastidio mettere i cappelli perché te li sconquassa tutti però al tempo stesso le mie orecchiette devono essere al calduccio perché non ti prendi un bel pariorecchie no bello fucsia un bel colore così giallo rosco recente peloso no no verde bile questo è un ottimo gancio perché fa freddo e quindi Regione Lombardia ci fa sapere che la centrale operativa della protezione civile ha emesso un'allerta già alla rischio neve domani scusate oggi perché il posto è di ieri sera oggi previste precipitazioni dalle prime ore della notte per tutta la giornata con quota neve inizialmente attesa oltre 1200 metri eccetera eccetera però se le temperature sono quelle al di sopra della nostra regione la parte alta della nostra regione comunque sotto non è che faccia caldo in questi giorni anzi anzi appunto finisce di basta anzi se vuoi ti faccio no se vuoi ti faccio no quello l'ho scritto ho detto io perché lo scrivo l'agione anzi ok comunque se siete più alti di 1200 metri occhio perché potrei beneficare quindi va bene Milano non c'è questo rischio Milano e città metropolitana non c'è questo rischio a meno che siete molto molto alti voi intanto Lega per Salvini Premier Milano fa sapere con un post cioè riporta con un post le parole del Governatore anzi del Presidente di Regione a Tiro Fontana chiare puntuali ed efficaci le parole della Premier Meloni sull'autonomia differenzata in occasione della conferenza stampa di fine anno il Presidente del Consiglio ha ribadito quello che sostengo da sempre l'autonomia non è una riforma contro qualcuno ma un'opportunità per tutti avanti dunque nel solco tracciato dal Ministro Calderoli per raggiungere prima possibile questo obiettivo fortemente voluto dai Lombardi talmente voluto dai Lombardi mi prometto di aggiungere che mi ricordo che quando ci fu il referendum era un po' più piccolino quello consultivo scusate sull'autonomia differenzata mi pare che fosse disertato sì abbastanza fosse stato disertato da tutti però vabbè queste le parole chiaramente del Presidente di Regione a Tiro Fontana che dobbiamo riportare in riferimento alla conferenza stampa di cui abbiamo parlato prima sì conferenza stampa che farà parlare di sé ancora per molti giorni e noi comunque seguiamo se ci sono risvolti milanesi ovviamente ve ne racconteremo andiamo con un po' di musica lui è Cesare Cremonini è una canzone di qualche anno fa dove si faceva un po' di problemi su quello che dicono di lui dicono di me Cesare Cremonini Cesare Cremonini dicono di me le 8 e 15 minuti qui su Crystal Radio abbiamo però un ospite giusto Lorenzo? sì Davide Borghi è qui con noi consigliere Municipio 4 buongiorno Davide ciao ciao a chi ci segue da casa e a chi ci ascolta da casa e buon anno buon anno anche a te Davide l'ultima volta che ci siamo sentiti abbiamo parlato della vicenda della 73 ci sono novità giusto? ci sono novità importanti nel senso una delle cose che gli avevo detto è che noi siamo dalla parte delle cittadine e dei cittadini perché come loro usiamo i mezzi pubblici e quindi sappiamo quanto sia importante la novità importante è che la maggioranza in comune ha stanziato con un ordine del giorno il milione che viene utilizzato durante l'assestamento al bilancio di dicembre per ripristinare una parte considerevole della 73 e quindi penso c'è una notizia molto importante che pezzo come verrà ripristinata per il momento poi so che magari continuerete a lottare sì noi avremo la parte da novegro a cinque giornate e quindi abbiamo tutto quell'asse di servizio e tutto quell'asse densamente popolato che viene coperto in ottima parte ma con il vecchio tracciato cioè viene rimesso il vecchio tracciato da 73 in quel pezzo sì la parte abbiamo la parte appunto tutta la parte esatta cioè quella che adesso mancava per intenderci dai ponti fino a cinque giornate viene coperta e appunto da una parte siamo molto contenti nel senso che come è stato ribadito anche durante la discussione in consiglio la maggioranza sceglie di mettere tutte le risorse che aveva per l'assestamento su questo tema quindi è una cosa di posizione e una considerazione forte del consiglio comunale Davide scusami tu mi parlavi di un milione di euro no quando parlavi prima dicevi esatto cioè quindi fammi capire coprire diciamo da Novegro fino a piazza Cinque Giornate costa un milione di euro per una sola linea dunque sì diciamo che nel complesso noi avevamo bisogno di trovare le risorse per coprire originariamente quando la 73 è stata eliminata ci era stato detto che serviva un milione di euro per coprire il tratto di Forlanini solo Forlanini sì mamma mia e successivamente è stato ripestinato appunto fino a Piazzaro Vidio per noi non era sufficiente nel senso che almeno bisognava arrivare a Forlanini con un interscambio significativo con il tram 27 per poi farla tornare indietro si è riusciti a prolungarla ancora e vorrei sottolineare come si sia dato più spazio a questo mezzo per una serie di cose che avevano evidenziato con il municipio a luglio e quindi è molto positivo il fatto che il Consiglio Comunale quindi poi il Consiglio al di là di tutto si è riuscito a trovare questi fondi e ricordiamo sempre che c'è un milione quindi tutte le altre diligenze su altri quartieri sono venute meno perché c'è stata una scelta precisa di dire abbiamo sentito che l'opinione pubblica ha bisogno di questo mezzo e quindi concentriamoci lì e questo penso sia molto importante poi noi non siamo ancora soddisfatti no ovvio esce anche un dato molto significativo nel senso che davvero cioè pensate quanto adesso passami tra virgolette poco si può fare con un milione di euro cioè si può sistemare solo una situazione con un milione di euro cioè fa capire quanto è costoso il TPL e quanto è importante trovare modo per sostenerlo mi viene da dire e quindi e quindi Davide ti facciamo la domanda del secolo ovviamente questi tornelli tutti parlano di questi tornelli cosa ne pensi tu Davide guarda secondo me Milano offre la possibilità di poter usufruire per chi è più in difficoltà per chi ha diciamo un milione non molto alto per chi ha ad esempio la situazione di occupazione perché a meno di 14 anni sono 10 anni che paro la stessa cifra come under 27 e ci sarebbero tante altre agevolazioni quindi Milano offre un aiuto buono secondo me per varie fasce e varie categorie d'altra parte però chi può pagare deve pagare e quindi secondo me è importante che ci sia un controllo maggiore tra l'altro noi sappiamo da ATM che aumentare i controlli sulle linee metropolitane rende di più nel senso che comunque aumentare i controlli sulle linee metropolitane porta un guadagno aumentarlo sui mezzi di superficie no perché costerebbero più i controlli che non quanto rende essero questi e quindi secondo me è una scelta significativa di difesa del trasporto pubblico locale di difesa di un certo tipo di mobilità non dimenticandosi i più fragili perché è in difficoltà bravo Davide ma come ti spieghi queste polemiche spesso che arrivano dalla stessa tua parte però questa sinistra che Milano insomma sta facendo un po' polemiche oggi il giorno titolava i tornelli non piacciono alla sinistra è vero è vero è vero è vero ma dipende quale sinistra bisogna sapere chi verrà sinistra nel senso che noi almeno solo nel partito c'è c'è stata diciamo è stato preso in modo positivo coesione e questa scelta e questa scelta si fa appunto meno nel paese democratico in modo positivo perché guardate ci si rende conto sempre di più di come valorizzare chi utilizza il trasporto pubblico locale chi sceglie un'alternativa chi cambia modo in cui approcciarsi alla città deve essere bisogna prendere in considerazione bisogna fare in modo che queste persone non ci sia sempre qualcuno che si infili ecco il punto è questo chiarissimo ma adesso invece allora tornano alla 73 allora la 73 diciamo quasi a posto più o meno soddisfatti diciamo di quello che siete riusciti a fare giustamente anzi complimenti ma adesso quali altre linee rimangono invece diciamo così con il nervo scoperto e cosa si potrebbe fare certo ma noi abbiamo ancora problemi come evidenziavamo già a luglio sulle linee 84 66 interscambio 66 45 abbiamo delle situazioni che vanno la 77 in qualche ricordetto abbiamo delle situazioni che vanno risolte e non siamo paghi per questo vogliamo effettivamente che con l'anno nuovo si lavori con quel lavoro di mediazione che c'è stato è stato lungo è stato positivo e ha portato i suoi frutti sulla 73 si lavori anche su queste linee nel senso che ci sono quartieri che altrimenti rimangono proprio scoperti mentre nel caso della 73 come dicevamo con il Sirio alternando modalità di tram diversi potenziando la linea si è assopperito seppur non completamente a una mancanza ci sono quartieri invece che se non hanno quel mezzo non hanno un mezzo quindi noi continuiamo in questa direzione continuiamo in questo lavoro che non ci faceva vedere con i lenzuoli in mano ma che ci ha visto protagonisti in questo dialogo con la parte comunale e piano piano penso otterremo dei buoni risultati chiarissimo bene buon lavoro e complimenti anche perché siete riusciti a fare quello che i cittadini vi chiedevano diamo a Davide e a tutti gli altri ciò che è di Davide e tutti gli altri sì ma guarda è sempre molto difficile soprattutto in un contesto in cui si parla tantissimo e si lavora sempre molto meno però ecco se cominciamo a sostituire un po' sugli fatti e un po' meno di parole secondo me la strada è quella buona bene bene com'è che diceva cevoli no non si può dire a quest'ora fatti diceva così direi di no ma non si può dire a quest'ora va bene Davide grazie mille come sempre per portarci il sentiment e soprattutto le cose fatte come dici tu appunto nella città buon lavoro al consigliere e spero di sentirti presto grazie e buon anno e a presto auguri anche a te allora auguri grazie mille ancora Davide Borghi il consigliere del municipio 4 da oggi Davide quando è che entra in vigore il nuovo tratto della Stata 3 da quando? non lo sappiamo ah ok voglio darvi i dati però volevo dire da oggi da oggi prendete no aspetta aspettate che vi dicano che c'è non andate lì alla fermata è una cosa impegnativa bisogna ricalibrare tutti gli orari degli autisti delle autiste è una cosa impegnativa infatti infatti è molto più complicato di quello infatti è molto più complicato di quello che si può pensare giustamente grazie mille Davide buona giornata a presto grazie a voi andiamo avanti con la musica questa è Lizzo con Special ma il cielo è sempre più blu eccoci tornati si può non cantare insieme abbiamo cercato di indovinare tutti abbiamo cercato al Fanta cantante molto difficile molto difficile ne ho beccato quasi uno mentre con domani Artisti Uniti per l'Abruzzo lì è semplicissimo perché sono veramente riconoscibili forse perché forse perché 15 anni fa il panorama musicale non era così standardizzato come quello di oggi forse ah tu dici c'erano cioè gli artisti erano più differenziati l'un dall'altro qui effettivamente c'erano delle voci che sembrano le stesse identiche identiche o magari la campionata cioè non lo so c'è da dire anche che però allora spezziamo una lancia fuori di questa versione anche se non è facilissimo spezzarla perché non è proprio la hit però uno ottima causa dietro ricordiamo fatta da degli artisti Italian All Stars si chiama così per raccogliere fondi per il covid per l'emergenza covid uscita nel 2020 per la Croce Rossa italiana registrata tutta a distanza tutta a distanza tutti i nostri sono registrati per i fatti loro le voci quindi non era neanche facile mixarle insieme infatti la qualità finale forse ne risente un po' per quello e a Bruzzo invece cioè ci ricordiamo che li hanno portati tutti fisicamente in uno studio c'è un video bellissimo mentre il video di questa versione qua è una telefanta su zoom con i quadrati come tipo quelli che ho avuto mentre discutevo la tesi ecco con i professori quindi capite i tangoloni con dentro Baglioni che canta ecco carino il pezzo che Baglioni canta chi copia Baglioni quel pezzo complimenti per l'ironico l'ironico Baglioni l'ironico Baglioni sì no ma sì secondo me è ironico beh a Sanremo a Sanremo si è lasciato andare il primo anno l'ironico Iperimpostato il secondo allora io dico sempre per conoscere secondo me Baglioni dal punto di vista istrionico del fuori dal palco programma di più di vent'anni fa Anima Mia Anima Mia secondo me lì dava veramente il meglio di stare sì molto molto bello molto bello molto bello ho avuto il mio periodo Baglioni tuttora l'ascolto molto volentieri sono anche andato a un concerto sì sì credo fosse ma più 20 anni 22 23 24 25 26 anni fa con Fazio con Fazio Baglioni ho tantissimi ospiti mi ricordo una versione di poster cantata con Giovanotti ad esempio una roba ecco la cosa che molti rimproverano a Baglioni è che ovunque va lui canta le sue canzoni eh però sei Baglioni eh lo so che sei Baglioni mi ricordo che tipo Elio aveva detto quando noi abbiamo fatto il dopo festival tipo non abbiamo mai cantato le nostre canzoni perché non so ma non sei Baglioni quei due festival lì di Sanremo erano la combination erano Baglioni che cantava le sue canzoni con altre artiste per non la metà bellissimo c'è una versione la versione di notte prima degli esami lui e venditti con i due venditti con la canzone sì in questo caso sì ma sicuramente anche con venditti avevano fatto una roba tipo che hanno cantato una di una di uno e l'altro ed erano vestiti di nero e di bianco mi sembra con il pianoforte rispettivo molto molto bello no no ma sì è vero dopo la seconda serata dicevi oh anche basta Claudio cambia però però c'è da dire che poi sei Baglioni però sei Baglioni se mai dovesse fare vasco cosa si mette a cantare canzoni altri e poi appunto tutti ma se mai facesse zucchero si mette a cantare canzoni altri sì perché zucchero scanta spesso canzoni altri le fa sue è una vecchia polemica in realtà è una realtà ne so che lui spesso ha fatto delle sorti di cover italiane di canzoni famose dall'estero quindi però io vorrei lui a Sanremo lui Morgan lui è Morgan questa è altrove pura poesia credo una delle canzoni più belle della musica italiana negli ultimi anni ultimi anni ultimi 30 anni perché ormai non è nuovissima però è proprio bellissima cioè un testo stupendo ti dà anche una carica secondo me emotiva per iniziare la giornata non so sono un po' filosofico oggi sto meglio in un pozzo che sul piedistallo non lo so se ti dà la carica però ti fa pensare infatti secondo me invece te la dà perché poi comunque non è sto meglio in un pozzo che in un piedistallo quindi fly down ciccio però poi voglio andare altrove partire con la mente non so lo mi deprime come canzone anzi nonostante se è intimista apre il nuovo rizzo ecco bravo bravo è speranzosa è speranzosa l'ultima mezz'ora anzi gli ultimi 10 minuti l'ultimo blocco allora la chiudiamo così no scherzo ultime notizie sul Corriere della Sera Milano esce un articolo casa Milano dove comprare nel 2024 e sostanzialmente e sostanzialmente siamo alla 69 puntata che è una cosa del genere noi dall'inizio della stagione quante volte mi hanno già visto notizie così più o meno tante tante però senza 2024 non ho fatto un aggiornamento del titolo dove devo comprare la stagione stavo dicendo mi fa molto ridere l'occhiello perché c'è scritto perché ha molte risorse la risposta è semplice un appartamento al piano alto dentro l'area C da 8000 euro al metro quadro in su poi la prima porzione di città che si può indicare scrive il Corriere della Sera Milano è quella che copre via Farini via Valtellini a piazza Maciacchini perché perché l'era interessata a riquarificazione appunto dello scalo Farini potrebbe l'isola potrebbe diventare il modello di riferimento dicendo cioè essendo al confine non era già e poi sì penso e poi subito dopo si fa riferimento ad Ergano Bovisa dove i prezzi scendono di migliaia di euro rispetto a appunto quelli citati i quartieri citati di prima perché perché c'è la rivalutazione in corso della famosa goccia quindi anche lì poi si capirà università al campus eccetera eccetera comunque da tenere sotto controllo quella zona se si vuole prendere il caso fa sapere il Corriere Milano tu ti improvviso da Masieri no ecco non venite troppi perché poi oggi la gentrification esatto continuando poi Masieri deve andare a vivere a Buzzano cioè è un casino beh non è male più in là più in là più in là all'Urago Marinone provincia di Como adesso sono appoggiato alla circonvallazione esterna proprio appoggiato più in là adagiato adagiato poi continuando in senso anti-orario ci fa sapere l'orenteggio ok vi è inganni Piazza Tirana perché perché ha già la riqualificazione di Scalo San Cristoforo e quindi si va di rigenerazione in rigenerazione e sostanzialmente Corriere della Sera Milano quindi il concetto è compra adesso così poi rivendi quando hanno rigenerato cioè è un articolo speculativo compra adesso e poi te la godi per bene per evitare di compratela più tardi perché infatti hanno saltato maggio che invece sappiamo essere ancora il quartiere in cui costano meno le case a Milano un altro articolo che c'era sul Corriere qualche giorno fa quindi non è molto hanno scritto questo articolo poi hanno detto c'è il CPT fa una cosa che si chiedono no scherzo poi in chiusura mettiamo essendo oggi venerdì quindi ci risentiamo lunedì il sigillo alle vacanze natalizie stiamo a sigillare le vacanze natalizie facendo sapere che sempre grazie al Corriere della Sera Milano gli alberi di Natale che in queste settimane hanno costellato Milano dopo l'Epifania avranno una nuova vita le 22 installazioni addobbate con luci a led e create con materiali riutilizzabili per ciascuna è stato pensato un nuovo utilizzo dai pacchi di Sephora alle gift box di Gucci dove vanno? chi è che si è preso le cose di Gucci le montano le macchine al posto dei airbag non sono per quelli innanzitutto il simbolo ossia l'albero di 28 metri di Cazza del Duomo prima bisogna lasciarlo asciugare sei mesi bisogna far riposare sei mesi per permettere al legno di asciugare in questo tempo verranno valutati diversi progetti di riutilizzo del materiale legnoso tutti legati a progetti benefici per la collettività tra le possibili destinazioni sapete come si traduce questa cosa? viene segato a pezzi si e poi vabbè si usa il legno ma infatti non mi sembra sta grande novità cioè c'è lì 30 metri di assi di legno cioè cosa fai li butti via no tra le possibili destinazioni l'impiego in progetti di pet therapy fino alla creazione di aree gioco per bambini vabbè ma non posso vendergli un falegname e basta cioè è tutto questo casino boh non capisco scusate c'è scritto c'è scritto riutilizzati le parole sono quelle riutilizzo rigenerazione sostenibilità sostenibilità tagliare un albero e portarlo in pezzo del Duomo anche le 78 gift box che compongono l'albero di 8 passamente tra l'agato Gucci verranno utilizzate in modo diretto dall'azienda o attraverso terze parti in ottica di circolarità in particolare parte dei materiali che compongono sarà donato a forma tart sai come si dice? come se fosse Antani grazie a tutti